Si chiama Amando, è un giovane ragazzo di colore il quale pensate che è un grandissimo fan, o meglio un grandissimo tifoso dell'Aston Villa, questa squadra calcistica di eccellenza. E costui, ripeto, si chiama Amando, sarebbe stato scambiato a tifosi per uno dei calciatori professionisti. E così ha deciso di scattare delle foto, dei selfie, ma anche fare dei video, filmare dei fotografi, senza immaginare che nessuno se ne sarebbe accorto. I tifosi, infatti, pensavano che si trattasse di uno dei membri di questa squadra calcistica molto importante. In particolare, è stato scambiato per Tire Minx. L'uomo è rimasto colpito in senso positivo quando si è accorto che tutti lo scambiavano per Minx, chiedendo autografi, foto e video proprio a lui, lui che non è un giocatore, lui che non è un VIP, lui che non è un personaggio famoso, celebre, e non fa parte del calcio giocato allenato. Alla fine, ripeto, non ha scambiato per Minx, ha firmato autografi e non si poteva immaginare di avere una reazione di piena soddisfazione da parte di tutti i tifosi che hanno avuto a che fare con lui, firmando fotografi, facendo selfie, foto di gruppo insieme e ricevendo il benestate di tutti, nessuno è il suo gioco. Bene, colponente un po' a costruire, mando, iscrivetevi e commentate. Grazie a tutti.